Questo programma è offerto da Centro Sportivo Football 24 Un'oasi sportiva immersa nella città Le previsioni del tempo per la provincia di Messina Oggi venerdì 7 marzo cielo nuvoloso con possibili precipitazioni durante tutto l'arco della giornata Le temperature saranno comprese tra i 10 e i 14 gradi I venti soffieranno moderati da nord e nord-ovest su entrambi i versanti I mari mosso sia il Tino che lo Ionio Domani sabato 8 marzo cielo poco parzialmente nuvoloso per l'intera giornata Le temperature oscilleranno tra i 10 e i 15 gradi I venti soffieranno deboli da ovest e nord-ovest su entrambi i versanti I mari mosso sia il Tirreno che lo Ionio I mari mosso sia il Tino che lo Ionio I mari mosso sia il Tino che lo Ionio I mari mosso sia il Tino che lo Ionio I mari mosso sia il Tino che lo Ionio